Mattel ha presentato a Città del Messico la sua nuova Barbie, ispirata al Dia de los Muertos, la tradizionale festa dedicata ai morti, che riprende i colori e gli abiti della Catrina, popolare personaggio dalle fattezze di uno scheletro della cultura messicana. Cristina Lorenzo, rappresentante di Mattel, spiega. Alla fine quello che vogliamo rappresentare è questo, una tradizione messicana molto importante e l'amore che ci trasmette. È un onore per il paese guardare le tradizioni messicane per farne una bambola, che è anche una bambola molto bella, una cosa che non si potrebbe fare in tutto il mondo, ha aggiunto il collezionista di giochi Carlos Sandoval.